Ma tu non sei in casa, chi so? Sì, io lo so, infatti gli uomini tu chiami Sì, gli uomini? Alla fine chi sei? Alla fine tu sei? Alla fine tu sei? Alla fine tu sei? Alla fine tu sei chiamato E tu resti vivo Mi porti su e mi prendi una fotografia Mi mi innamora con questo scheru Ti raccanda te! E poi questa foto è brutta Mi chiederei Ti vede un ruolo E che boh E che boh ti lavano la faccia Io i chistiani A me i chistiani non mi interessa Io ho una tarannuccia Perché ho il culo Il culo io ho picchia il mostro io buono Che fu l'asciutto E io mi scanto il no Perché scoglio mio è ruolo A me non mi interessa i chistiani Chistiani non mi hanno tutti i trucchi buono No no E che boh ti lavano la faccia Non mi interessa Perché ho il culo è asciutto E io scoglio mio è ruolo Perché io stia non mi scanto Io ho una tarannuccia Io ho così dito le facce Ma che faccio la vita E che boh E che boh Ma che ti interessa a te di mia? Tu pensa per te io penso per mia Asino 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 tu sei scemonito Valla che ho picca Picchiando Picchiando Bapà Calma te No asino sei tu asino scemonito Ma che bapà Ma hai quella Ma hai la scogli Ma hai la miseria Ma che bapà Non hai l'altro Ma io E io Rosabba Cierumpipi che dice f*** Che dice pazzo io a mia chistina mi mandano tutte e tutti bene mi panno che dice e che mi interessa a mia chistina mi ha fatto questo cazzo pescire a Rosabba e tu ci sei a Rosabba poi ti passare a Maria no no mi interessa perché tu sbagli a mia madre se ne esce munita ma tu mi piace ma tu non fai una madre ma tu non ti fai schifare ma tu non ti fai schifare ma ti fai schifare mi fa ma chi fai malato ma come vive si muove ma so che mi picco io ti arrumbi che fosse Ma perché, perché? Ha peggiorato, ti dice aggiornate! Com'è? Ehi! Che seconda è mai tornare la torta, allora? Comunici tu? Perché si lavava la uccia! Senti che una cosa! Ti avrete a incontrare, a fare pace! No, 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 no! No, no, pace niente! La pace in casa si fa! Scambi il segno di pace! Sì, tutto un rire! Che mi aveva disimulito! Mi si aggiornate che ti ho scelto un po' in casa tua! Ah! No, no, pace non c'è niente! Come? Che? Che? Mi si aggiornate, si lavava la uccia! Tutto! Domenica? Chi si lavava la faccia? Sì, sì, sì! No! Aveva il compleanno di mio figlio, capisci? Ho il compleanno di mio figlio, non poteva parlare per questo! Io non c'era però, Maria, non era a mio anno, capisci? Chi si lavava la faccia? 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 Chi si lavava? Chi si lavava la faccia? Chi si lavava la faccia? Chiayamati! Ora, non c'è una faccia? E' inекente! Alcaldate? Chi si lavava la faccia? C'era un altro... Chi si lavava la faccia, non ci lavava la faccia! E' in? Si, suonale! Io non c'è la faccia! Sì, sì. Ma tu in pratica hai tempo libero? Nessi tu il gioco di un che lavaggio, non si come un altro. Ma sta meglio. Ma sta in buono. Adesso vuoi stare a un po' di gioco. Adesso se vuoi stare a un po' di gioco? No, no, ma che vuoi stare a un po' di gioco? Non ci senti a un po' di gioco. Non ci senti a un po' di gioco. Non, non, non. Ah, per fare pace. Così avete a stare a un po' di gioco? No, non mi piace quel nudo. Non mi piace quel nudo. Non mi piace come hai detto. Come? No, no. Non è che fare questo. Un anno? Non mi interessa.